Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia, questa è la prima intervista in collaborazione con Massimo Fratini, che tutti ben conoscete dal famoso sito Segni dal Cielo. Insieme stiamo unendo le nostre ricerche, i nostri test, i nostri studi, per arrivare a una conclusione che possa far capire come funziona il controllo mentale, come funziona il mondo parallelo Matrix e come funzionano le manipolazioni attraverso armi ad energie dirette. Ascoltateci e seguiteci per tutte le prossime dirette radio web che faremo. Ascoltateci e seguite